Non c'è Natale senza una sorpresa ed è stata certamente una sorpresa inaspettata quella che è arrivata durante la tradizionale cena di Natale in netto anticipo della Stefano Ricci. Il patron in persona con un video messaggio ha annunciato il suo passo indietro. L'intera azienda passa adesso nelle mani dei figli Niccolò e Filippo. Una decisione epocale per il colosso della moda uomo che ha vissuto un 2017 da sogno, apertosi con la sfilata nella sala bianca di Palazzo Pitti e chiusasi con l'incontro con il capo dello Stato. Stefano Ricci rimarrà presidente e proprietario della società con il pacchetto azionario di maggioranza, continuerà a seguire la parte strategica e le collezioni ma tutta la gestione ordinaria sarà nelle mani dei due figli. È un anno importante e emozionante perché è iniziato con questa splendida sfilata nella sala bianca di Palazzo Pitti, poi è proseguito con importanti eventi in giro per il mondo e aperture di negozi importanti. Tutto va avanti con grande voglia e i mercati comunque rispondono bene, abbiamo delle aperture come dico Hong Kong, Miami, Las Vegas a breve nei prossimi mesi, quindi siamo molto soddisfatti di portare un prodotto fatto a Firenze nel mondo. L'azienda ha già 550 dipendenti a cui si sommano mille addetti esterni, 60 negozi di cui 30 di proprietà e in occasione della festa di Natale i figli di Stefano Ricci, Niccolò e Filippo hanno annunciato che verranno aperte il prossimo anno altre 6 boutique in giro per il mondo.